L'80% dell'esperienza umana viene filtrato attraverso gli occhi, ma il colore cattura per primo la nostra attenzione, trasmette un messaggio e uno stato d'animo e può essere la chiave del successo. In Penton Color Institute parliamo il linguaggio del colore dal 1986, aiutando i marchi ad avere successo. Dalle tendenze del colore al significato culturale, portiamo le nostre idee sul colore per aiutarvi a sviluppare una strategia di colore design corrente con la vostra visione del marchio. Ogni colore e combinazione di colori esprime qualcosa di diverso, causando istantaneamente una reazione psicologica e una risposta fisiologica. Ti aiutiamo a creare un'identità del marchio attraverso il colore, riconoscibile istintivamente dai consumatori. Vuoi sapere in che direzione si evolve il colore? Prevediamo anche il futuro del colore, cioè in un panorama in continua evoluzione i nostri libri sulle tendenze Pantom View evidenziano temi cromatici emergenti da 6 a 24 mesi in anticipo sull'inizio della stagione. Cerchi una direzione del colore personalizzata che sia favorevolmente accolta già 4 anni prima? Cureremo la tua tavolozza e creeremo storie che ti distingueranno. Possiamo anche definire la tonalità caratteristica del tuo marchio. Sapevi che il colore aumenta il riconoscimento della marca dell'87%? Ti aiuteremo a costruire un'identità visiva più forte adattando una tonalità intramontabile e iconica al tuo marchio o prodotto. La chiave perché il colore di un marchio divenga rappresentativo tuttavia è la coerenza. Il tuo colore viene riprodotto in modo accurato indipendentemente dal prodotto, dal materiale o dal supporto? Definiremo e standardizzeremo il tuo colore in modo che il suo messaggio e il suo significato non vadano mai persi nella traduzione. Ci sono molti modi in cui il tuo marchio può lasciare il segno. Lascia che Pantone Colon Institute ti mostri perché sappiamo che il colore viene prima di tutto.